Oh Maria, ma che stai facendo? Ho provato i peperoni? Sto preparando i peperoni. Come si fanno? Levo i peperoni, si creano, si fanno pezzettine e si levano tutte le sementi che sono dentro pronte per Maria che è freddo. Come si fredde, Maria? Prima metto dentro la friggitrice, l'olio deve essere molto bene e se ne stai aggiunto un secondo quando si bagnano solo un po' Ora sono tutte morbide, però non ti preoccupate che fra 5-10 minuti vengono croccati. Buono, brava Maria! Il tempo che è freddo, si mettono il sale. Prima vengono il sale, sennò ora mesi rventi nel croccato. Al prossimo episodio